Stai per diventare lo sceneggiatore più pagato a Hollywood. Il che ti renderà il più pagato sceneggiatore al mondo. Dove devo firmare? Il comunismo non è una minaccia lontana. I suoi proseliti più pericolosi sono qui, a Hollywood. Devono essere schedati e trattati da nemici. Perché il cinema? Perché noi? Perché il nostro lavoro è stare sotto i riflettori. Traditori! Se ci sbattono in galera diventano famosi. I miei 35 milioni di lettori vogliono che questi traditori siano puniti. Signor Trambo, è o è mai stato un membro del Partito Comunista? Gli unici che rispondono a una domanda con un sì o un no sono solamente gli stupidi o gli schiavi. Riteniamo l'imputato colpevole delle accuse a scrittere. I produttori non daranno più lavoro a membri del Partito Comunista. Non si può mettere fine a tutto questo dando loro ciò che non hanno il diritto di pretendere. Le scriverò un film per 1200 dollari. E non vuoi che si sappia in giro? No, lei non vuole che si sappia in giro. Pagalo! È un genio! Ti vogliono al telefono. Chi è? Kirk Douglas. Voglio fare un film su un uomo che combatte da solo contro il mondo intero. Mi suona familiare. Spartacus. Amico, licenzi Dalton Trumbo. Le renderemo la vita a un inferno. Non credo che noi due saremo mai amici. Vedrai. Andrà tutto bene. Hai idea di che cosa potrebbe succederci? Vogliono la guerra e l'avranno! Sì, vocifera che stia scrivendo sotto falso nome. Non sarà così sciocco, spero. Mi sopravvaluta. L'ultima parola. La vera storia di Dalton Trumbo. Al cinema. Sapevate che Will Smith rifiutò il ruolo di protagonista in Jungle Unchained? Andato poi a Jimmy Fox? Motivo? Divergenze creative con Tarantino. Sì, Will voleva che il film fosse una storia d'amore e non di vendetta. Ma Will, ma come ti viene in mente? Beh, Quentin non era proprio d'accordo. E meno male, no? Cliccate qui accanto per rimanere con me. E noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!